ciao brutto raffreddore eh zii ho il taso chiuso stasera squaletto mi ha invitato a ceda ma dovrò di dire tranquilla ho io la soluzione wow simona funziona cenetta con squaletto arrivo ciao a tutti amici sarebbe bello vero se ci fosse un rimedio così miracoloso eh lo sapete meglio di me le cure miracolose non esistono ma gli oli essenziali sì e oggi vediamo i tre rimedi con oli essenziali più potenti da usare quando siamo raffreddati con il naso chiuso tappato ostruito o come volete voi dirlo in tanti mi chiedete spesso quali sono i migliori oli essenziali e come usarli ma voglio chiedervi io una cosa prima sapete quanti benefici hanno gli oli essenziali sì certo io li conosco tutti beh tutti non li so nemmeno io e non li sa nemmeno la scienza ma va certo degli oli essenziali vengono scoperti continuamente nuovi benefici e nuove applicazioni sempre più utili il naso intasato è molto fastidioso sapete cosa succede quando non respiriamo dal naso l'aria non viene filtrata come dovrebbe e quindi possono entrare nel sistema anche virus batteri polvere agenti inquinanti non va bene inoltre se il naso è tappato si può accumulare muco nei seni paranasali e questo porta a sinusite infiammazione mal di testa sapete quante volte ho risolto nel mio lavoro di naturopata dei mal di testa che sembravano irrisolvibili semplicemente liberando le vie nasali e facendo uscire tutto il muco accumulato che premeva e infiammava e causava dolore incredible e come hai fatto facile vai col naso libero e con gli oli essenziali vediamo le slide ma prima come sempre questo è il momento di mettere un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e adesso ecco i migliori tre oli essenziali per le vie respiratorie ecco 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 atticlove e cosa devo fare li metto come goccine nel naso no no per carità attenzione mai utilizzare gli oli essenziali puri sulla pelle sulle mucose poi altro che liberare il naso viene un bruciore pazzesco un naso così io li uso così ora vi faccio vedere ma prima per vedere tanti altri tutorial e ricette di salute naturale se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale è facile basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video allora porto a ebollizione due tazze di acqua spengo e metto il pentolino sul tavolo preparo un asciugamano a parte e nel frattempo metto cinque gocce in tutto di oli essenziali due gocce di pino due gocce di eucalipto e una goccia di timo non di più perché è molto potente poi copro la testa e il pentolino con l'asciugamano e respiro possibilmente con il naso per quattro cinque minuti ogni tanto faccio passare un po d'aria fresca altrimenti alla fine mi ritrovo la faccia come quella di un gambero bollito e non è il caso ma è una cosa complicatissima no dai guarda che è facilissimo ci vogliono poco più di cinque minuti in tutto se non avete cinque minuti per la vostra salute allora dovreste curare altro che le vie respiratorie in effetti dovrei proprio organizzarmi per la mia salute in tanti conoscono questi tre oli essenziali ma non tutti conoscono il segreto per farli funzionare veramente e ottenere subito questi quattro benefici importantissimi uno pulire le vie respiratorie per esempio quando respiriamo tanto smog in città due prevenire le malattie da raffreddamento tre sbloccare le vie respiratorie se sono chiuse o intasate quattro rimuovere i ristagni che danno disturbi cronici il segreto è presto detto bisogna seguire questo sistema naturale con una cadenza diversa a seconda dei casi vediamo cosa consigliano i testi di aromaterapia ho fatto una sintesi per voi la natura ci dà gli strumenti per stare bene in modo naturale e senza effetti collaterali usiamoli a nostro vantaggio visto che molte altre cose della nostra società sono così chimiche e innaturali e il loro scopo non è certo quello di farci stare bene se siete d'accordo con questo pensiero condividete il video lo trovate anche su facebook fate circolare il profumo degli oli essenziali e diventate anche voi portatori sani di salute naturale come me per oggi è tutto ci vediamo presto sempre qui sul canale nel frattempo sempre trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao funziona mi dispiace io non ci posso fare nulla sennò mi ammalo però è davvero 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 però è davvero 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 Grazie a tutti.